inizia oggi il santo tempo della quaresima e il vangelo ci invita a fare attenzione stiamo attenti alla superbia che ci fa pensare di essere migliori degli altri e attira la nostra attenzione su di noi e sulle nostre azioni buone non si può fare del bene per essere visti dagli altri o per la propria vanagloria stiamo attenti all'ipocrisia che ci mette maschere sul volto e ci fa credere molto di più di quanto significhiamo realmente l'ipocrisia è molto pericolosa per la vita spirituale perché nasconde alla persona gli errori che commette la quaresima ci invita a pregare per saper essere sinceri con noi stessi e per cambiare la direzione della nostra vita riesci a vedere te stesso nella nuda verità sai riconoscere i tuoi errori ti accetti così come sei cosa potresti cambiare nella tua vita per migliorare i rapporti con te stesso e con gli altri